bentornate e bentornati a questa nuova cavalcata su ferrite ferrite è questa meravigliosa questo meraviglioso editor audio per ios e per ipad os questa è una moto scorregetta mannaggia a voi mannaggia ma dimmi te mi tocca tenere aperto la finestra perché sennò muoio ma questo ormai l'abbiamo capito fa caldo purtroppo la settimana scorsa alla volta anzi il video scorso abbiamo visto come si fa come si aggiunge un effetto in fattispecie un equalizzatore oggi invece ci dedichiamo della compressione una cosa che ecco ho appena fatto una cosa che volevo spiegarti che invece non ho spiegato nel video scorso cioè che se noi inseriamo un effetto qualsiasi sia tipo questo e poi lo andiamo a spippolare se non ci piace più e lo vogliamo eliminare basta premere il pulsante del cestino che che compare lì a sinistra oppure ancora se noi inseriamo un effetto basta andare su modifica e così lo eliminiamo molto molto semplice inseriamo un compressore e andiamo a vedere i suoi parametri piccola premessa su che cos'è un compressore come funziona un compressore un compressore è un effetto di dinamica scusami è un effetto che va a interferire a modificare la dinamica all'interno dei suoni nel caso nostro della voce cosa significa ti sarà capitato sicuramente di sentire un film sentire nel senso ascoltare l'audio di un film uno spettacolo radiofonico anche un podcast e ci sono dei momenti in cui le voci sono molto molto forti molto forti no sono forti il giusto e quindi comprensibili sono troppo forti quindi ti fanno male e devi abbassare e però invece altri momenti in cui magari c'è qualcuno che parla troppo piano e devi alzare il volume questa questo movimento che devi fare col volume abbassare tenerlo fermo oppure scendere scusami salire è la dinamica dei suoni cioè molto forte normale piano normale forte normale normale forte piano questa cosa così il compressore riduce la dinamica di tutta la regione sonora che ci interessa ovvero va a abbassare i picchi e poi va a farci guadagnare volume sulle parti più basse e quindi ce le va un attimo ad alzare in questa maniera abbassando le parti più alte e portandole più vicine alle parti più basse rende tutto un pochino più omogeneo se ci fai caso certe voci radiofoniche o per fare un esempio a me caro il mio carissimo amico Andrea Ciraulo usa tantissima compressione sulla voce pure troppa secondo me glielo dico sempre lui mi riede addosso perché a lui piace così c'è poco da fare in tutte le cose dell'audio a parte alcune scelte che potrebbero essere ritenute blasfeme un po da tutti non c'è un giusto sbagliato c'è un mi piace come suona o non mi piace come suona se ti piace come suona Andrea comprimi anche quello che vuoi proprio la tua anima puoi comprimere ho perso il filo andando a comprimere le parti più forti e vicinandole a quelle più deboli rende tutto un pochino più omogeneo in questa maniera è tutto un pochino più intelligibile poi a seconda dei parametri che andiamo scegliere e delle caratteristiche della nostra voce del nostro microfono come abbiamo registrato possono variare un sacco di cose può essere tutto un pochino più compatto può essere eccessivamente compresso e quindi anche essere fastidioso sul lungo periodo per l'ascolto insomma tante tante piccole cose che ovviamente vanno imparate provando e smanettando tantissimo ferrite come vedi ha dei a pochi parametri sui quali possiamo intervenire a sufficienza per non impazzire e a sufficienza per ottenere un ottimo risultato e farci ascoltare da tutti quanti però non certo quanti possono esserci su una do quindi su un programma audio professionale andiamo a sentire adesso la voce mia mi rimette le cuffie così la sento anch'io mi piace lunedì che siamo in giro a fare delle registrazioni mi offre il pranzo purtroppo non mi sta disperando andiamo a sentire la prima di inserire un compressore quindi è un problema torniamo un pochino indietro torniamo a inserire questo maledettissimo compressore andiamo a sentire così da solo come suona se non mi piace lunedì che siamo in giro a fare delle registrazioni mi offre il pranzo purtroppo non mi sta dispiacendo quindi è un problema i parametri sono sono i parametri che i ferrite ci mette a disposizione sono tre la soglia il rapporto e il ripristino guadagno la soglia è sotto quale livello di volume il compressore inizia a lavorare cioè sotto un determinato su un livello sonoro il compressore sta fermo lì si beve una birra resta nel polleggio il rapporto indica sarebbe da fare un discorso molto più approfondito sulla compressione ma non è questo il momento indica fondamentalmente quanto compressore viene utilizzato per semplificare in una maniera brutale che mi vergogna di me stesso il rapporto guadagno invece dopo aver abbassato questi picchi di quanto recupero questo volume su tutta quanta scusami la traccia andiamo un pochino a fare delle prove cioè c'è poco da fare bisogna sempre fare delle prove nell'audio belli ciao con pio e amedeo proviamo ad alzare la soglia alzarla o abbassarla anzi proviamo a lavorare prima sul rapporto uno dei conduttori sta guardando belli ciao con pio e amedeo e ormai parlo così figa allora per esempio il massimo rapporto che lui mi dà è 10 a 1 perfetto proviamo a modificare il ripristino guadagno devo essere onesto non gli avrei dato una lira non mi sta dispiacendo e lo sto guardando espressamente perché ho perso cioè nel senso era una scommessa con una mia collega lui mi fa se allora io lo guardo se non ci ho messo un po purtroppo a prendere la pallina ma ci sono riuscito senti che inizia a sentirsi più forte la mia voce adesso iniziamo a giocare un pochino con la soglia mi piace lunedì che siamo in giro a fare delle registrazioni mi offre pranzo purtroppo non mi sta dispiacendo quindi è un problema sono a metà quindi può ancora andare tutto in mano per esempio se la soglia fosse bassissima quindi il 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 compressore non iniziasse mai a lavorare quasi non si sente più neanche la mia cioè non si sente più neanche la mia voce con un poco poco strano che di effetto non riusciti a fare un film tutto sommato carino tutto sommato incredibilmente sembra che il mio volume sia uguale a prima quando non c'era neanche il compressore devi devi fondamentalmente smanettare capire un po a che distanza stavi dal microfono e quindi se ci sono dei magari dei finali di parola che non sono con intelligibili il compressore ti può aiutare a sistemare un pochino il rapporto io non lo tengo mai più di tre e mezzo 4 a 1 quanto conto siamo 3 e mezzo e il ripristino guadagno ovviamente lui lo esprime in percentuale io sono abituato a gestirlo eventualmente in decibel in decibel vediamo come sono a metà ricordiamoci però poi quando sono in televisione dicono delle cose insomma non proprio le cose giuste da dire non lo so sono sono abbastanza incuriosi qua potrebbe essere per esempio un buon compromesso di di compressore per fortuna io trovo che a parte quando effettivamente vado abbastanza piano con la voce ma non non ci sia gran che bisogno di inserire un compressore sulla mia personalissima voce però insomma queste sono tutte cose che dipendono da dai gusti ciascuno di noi come dicevo prima e dai disastri eventuali compiuti sui durante la registrazione basta questo era il breve video per imparare i propri rudimenti brutali di un compressore in generale del compressore di ferrite l'unico suggerimento è lo stesso che ti posso dare per l'equalizzazione ma anche per per la gestione tutte le tracce quant'altro fai delle prove fai delle prove sbattiti cerca di capire qual è il questo non è una moto non è una moto era un'auto tamarra cerca di capire qual è la cosa che preferisci come come impostazioni e quali sono le insomma gli interventi che vuoi effettivamente applicare alle tue tracce ciao alla prossima